Secondo lei, in base a quanto è emerso, a quanto ha detto dal PM, fino a che punto si è arrivato in alto verso questo depistaggio? Io chiudo al generale Ministri. Io vorrei che il generale Ministri adesso dicesse qualcosa. Vorrei capire se veramente il problema è casa massima, rosata e tedesco, oppure se abbiamo un problema molto più ampio e molto di diversa natura. Io questo solo vorrei capire. Sono molto arrabbiato, perché mentre noi facciamo processi succedono cose che non dovrebbero succedere e che tra l'altro hanno come protagonisti persone diverse dagli anni imputati. Quindi io vorrei spiegazioni per me, per la famiglia Cucchi e per tutti i cittadini italiani. Sono depressa per tutto questo. Lo sono da sorella di Stefano, ma lo sono soprattutto da cittadina italiana. Tutto questo è intollerabile. Mentre questa famiglia, sulle sue spalle, sulla sua pelle, si misurava con una giustizia che, dobbiamo dirlo, ha due pesi e due misure, c'era qualcuno, e cioè i superiori delle persone direttamente coinvolte coinvolte in questo processo oggi sul banco degli imputati, che sapeva tutto fin dai primissimi istanti ed ha messo a tacere piuttosto che essere vicini a noi, che eravamo le vittime. I superiori degli indagati, ma secondo lei fino a che livello, cioè a che punto del vertice della piramide della catena di comando? Questo non lo so, ma mi sto rendendo conto che ci sono delle responsabilità, molte più responsabilità di quelle che avrei mai potuto immaginare e devo dire che questo fa anche paura.